Allora, abbiamo un bicchiere di plastica vuoto e un bicchiere di plastica con dell'acqua. Proviamo a usare la fiamma e vediamo quello che succede. Si è bucato. Si vede che si è bucato? Andiamo con l'acqua. Cioè ragazzi, ci sto che ci sto, quanto so stato? Si è semplicemente amerito, ma si è aperta la plastica sotto? No, perché? Cioè il valore del calore specifico dell'acqua è alto. L'acqua assorbe il calore lentamente, lo fa distribuire, cioè se lo distribuisce dentro, no? Aumenta la temperatura e il fondo del bicchiere? Sì, certamente sta aumentando, ma lentamente. E infatti non si fora.